Giancarlo Cristiani Giancarlo Cristiani Giancarlo Cristiani che dall'80 ha un negozio di arti ricordate del 900 l'Art Nouveau agli anni 30, agli anni 50 e siamo ormai al post moderno, al contemporaneo quindi abbiamo fatto un po' di tutto Meno mercante un pochino più appassionato l'ho fatto dai mobili all'arte curiosando non mai uno specialista solo in un settore si possono comprare cose belle anche con dei prezzi molto bassi, ci sono anche delle cose che non costano cari ma hanno una grande idea e credo che siano da proporre sia da proporre la fotografia che al momento non costa nulla ed è importante e questo sarebbe da avvicinarsi un pochino all'arte perché non è così costosa come sembra